. Anticipazioni Verissimo Speciale GF VIP, data e ospiti VinZudian. Grande Fratello VIP 2017, la reunion ha Verissimo, ecco quando va in onda e gli ospiti. Il cancelletto Grande Fratello VIP 2017 non è ancora finito. . Ieri sera è andata in onda la puntata finale del reality show condotto da Ilari Blasi durante la quale cè stata la proclamazione del vincitore assoluto di questa stagione che si è portato a casa il premio finale di 100.000 euro. . . La reunion del Grande Fratello VIP 2017 ha Verissimo. . Intanto, però, i numerosi fan del GF VIP si stanno chiedendo se ci sarà la consueta reunion post finale con tutti i concorrenti di questa edizione, compreso il vincitore Daniele Bossari e i finalisti. . Ebbene le anticipazioni ufficiali rivelano che quest'anno la reunion speciale del GF VIP non andrà in onda in prima serata ma sarà comunque trasmessa in daytime sempre su Canale 5. Le anticipazioni ufficiali rivelano che sabato 9 dicembre, video, alle ore 16. . 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